Inter, Bastoni esplora il Giappone e abbraccia la cultura. Durante un evento organizzato presso il quartier generale di Konami, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha condiviso il suo coinvolgimento con il Giappone e l'esperienza culturale che ha avuto durante la sua visita. Bastoni ha raccontato ai presenti di aver avuto l'opportunità di visitare molti luoghi, tra cui templi e altre architetture tradizionali, oltre a gustare la cucina teppagnaki. Ha espresso il suo apprezzamento per la cultura giapponese e il piacere che ha provato nell'esplorarla. Rispondendo alla domanda riguardo ai videogiochi, Bastoni ha scherzato sul fatto che, essendo diventato un papà, ora non ha più tanto tempo per giocarci. Le responsabilità della paternità hanno ridotto il suo tempo libero. Ma ciò non ha diminuito il suo entusiasmo nel vivere questa nuova fase della sua vita. Alla conclusione del suo discorso, Bastoni ha ricevuto gli applausi calorosi degli spettatori, dimostrando l'apprezzamento e il sostegno dei fan presenti all'evento. Questo incontro ha fornito un'opportunità unica per i presenti di ascoltare direttamente da Bastoni le sue esperienze nel paese e la sua affinità con la cultura giapponese. Il calciatore ha dimostrato una profonda gratitudine per l'opportunità di esplorare il Giappone e di connettersi con i suoi appassionati tifosi.